La scelta del vice sindaco Salvatore Garofalo che si è dimesso a causa della nuova norma sulle incompatibilità lascia fuori dal Consiglio Comunale di Vittoria i rappresentanti di Federazione della Sinistra. Nelle elezioni del giugno scorso sono risultati eletti i candidati di SEL, sono rimasti fuori gli altri e lo restano anche oggi. Scelta stigmatizzata da Federazione della Sinistra nel corso della conferenza stampa del segretario Davide Guastella insieme ad Emiliano Fidone e Fabrizio Brucato. Purtroppo è un'esperienza che finisce e come tutte le esperienze che finisce c'è un po' di rammarico perché al progetto unitario avevamo creduto e ci eravamo spesi fin dall'inizio. In seguito a insuccessi tanto politici quanto amministrativi è venuto il tempo di fare un po' di chiarezza e di marcare le differenze tra chi pratica una sinistra di programmi, di valori e di contenuti e chi da sei mesi a questa parte cerca una poltrona di presidente, un posto di sottogoverno o una vice sindacatura. Oggi l'alleanza costruita durante la campagna elettorale con la scelta della lista unitaria che ha consentito di superare la soglia del 5% si è rotta. La delusione è tanta ma la scelta è di rimanere ancora nella maggioranza. Nei prossimi giorni Fed incontrerà il PD poi il sindaco. Nel frattempo però tutti hanno rifiutato le consulenze ed i posti di sottogoverno che sono stati offerti ma chiedono cose precise sul piano programmatico soprattutto sui temi della raccolta differenziata, emaia e mercato. La posizione di Fed rispetto alla maggioranza diciamo che non cambia nel senso che è nostro obbligo continuare a parlare con il sindaco e con la maggioranza sui problemi veri della città, sulle emergenze che la attraversano.